Justin Roiland è stato uno dei creatori del cartone animato di grande successo Rick e Morti, ma come ormai abbiamo visto, mezza Hollywood è coinvolta in scandali di natura sessuale, spesso che coinvolgono minori. E Justin Roiland purtroppo non è esente da tutto questo. Una denuncia per violenza domestica si è tramutata in una caccia all'uomo sul web che è costata il posto di lavoro a Roiland e la serie è andata avanti senza di lui. Vediamo che cosa è successo. Sigla! Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè. Dunque, oggi non ci roviniamo Rick e Morti, ve lo dico. Ci roviniamo il fatto che uno dei due creatori, diciamo che insomma si si è guadagnato il suo posto in Hollywood non solo per la creazione di questo fantastico cartone animato, ma anche per il fatto che rispecchia i canoni ormai di quello che abbiamo capito essere Hollywood, perché io veramente non ho parole. Non sapevo di questa notizia, cioè questa notizia in realtà risale a qualche mese fa, ma io l'avevo persa, ve lo dico. Quindi appena l'ho ritrovata, grazie a Andrea, ho detto ok, portiamola immediatamente. Quindi grazie Andrea per avermi consigliato, diciamo, per avermi segnalato, ecco questa notizia. Oggi a quanto pare sia sarà con noi in tutto il video, quindi sperando che non cominci a salire sul computer e robe varie. Dunque, quindi questo Justin Roiland di cui parleremo oggi è il co-creatore del cartone animato di Rick e Morti. Se non avete mai visto Rick e Morti, vergogna. No, a parte gli scherzi, se siete amanti del genere, Rick e Morti personalmente è uno dei miei cartoni animati per adulti, ovviamente, preferito perché è veramente geniale. Vediamo che cos'è Rick e Morti, giusto per dare una panoramica e poi vediamo che cosa è successo e che cosa ha fatto questo Justin Roiland. Rick e Morti è una serie animata statunitense creata da Justin Roiland e Dan Harmon per la casa di produzione Adult Swim. Nonostante all'apparenza vi per via dei colori pastello possa sembrare un cartone animato per bambini, non è proprio per bambini. Se vedete vostro figlio vedere Rick e Morti, toglieteglielo. Toglieteglielo perché veramente non è un cartone per bambini, è un cartone per adulti. Questo cartone di che cosa parla? Abbiamo Rick Sanchez che rappresenta lo stereotipo dello scienziato pazzo, arricchito con cinismo, egoismo. È un personaggio eccentrico che inventa tutti questi congegni ai tech per viaggiare nei vari universi. Infatti il cartone è una parodia estremizzata del film Ritorno al Futuro. Poi c'è appunto Morti che è suo nipote, che è un bambino un po' sciocco e svampito che lo segue in queste avventure. La cosa bella di questo cartone animato è che ogni puntata è basata su una teoria scientifica, più che altro per quanto riguarda il lato della fisica quantistica, quindi degli universi paralleli e tutte le possibili implicazioni. Quindi quello che mi affascina particolarmente di questo cartone è proprio questo, cioè il fatto che tutto quello che succede nelle puntate, per quanto assurdo, in realtà ha una base scientifica, ha una spiegazione scientifica e potrebbe essere possibile quello che accade. È chiaro che poi le tematiche trattate e le varie implicazioni dei personaggi sono molto più crude, per questo vi dico non è un cartone per bambini. Però la cosa fantastica di questa animazione è proprio che tu a un certo punto nelle puntate entri in un loop incredibile sapendo che quello che succede potrebbe effettivamente essere possibile. E la genialità di questo cartone sta proprio in questo. Poi ci sono altri membri, diciamo, della famiglia. Appunto c'è Rick Sanchez che è lo scienziato pazzo che è il nonno di Morty. Poi c'è Morty che è appunto il nipote. Poi c'è Beth che è la mamma di Morty e la mamma di Summer che è la figlia di Rick. Anche lei è una donna molto geniale che fa la chirurga per cavalli. Lei avrebbe voluto fare il medico nella vita ma poi è rimasta incinta di Summer, la sua prima figlia, con Jerry e quindi lei è una donna sostanzialmente frustrata del fatto che sostanzialmente la sua famiglia in realtà sia stata per lei una zavorra. Soprattutto questo Jerry. Questo Jerry che è per me il lato più comico di tutto Rick e Morty, che è un uomo mediocre che vuole una vita molto semplice, troppo semplice per quello che in realtà avrebbe voluto Beth per se stessa ed è odiato anche da Rick proprio perché è considerato la zavorra di sua figlia. Quindi colui che non ha permesso che sua figlia si realizzasse geniale com'è essendo proprio sua figlia. Questa più o meno è la trama poi ci sono vari intrecci, varie cose però ci sono delle puntate particolarmente crude. Ora per chi ha visto Rick e Morty dei fan come me scrivetemi sotto nei commenti qual è la vostra puntata preferita. Ora passiamo al succo. Questo Justin Roiland, ciao ci ha abbandonato sia. Quindi questo Justin Roiland che appunto è uno dei co-creatori di Rick e Morty all'inizio del 2023 è stato accusato di due crimini, uno dei quali risalenti a gennaio del 2020, è stato accusato di due reati nei confronti della sua fidanzata, cioè della sua ex fidanzata, cioè un'accusa di aggressione domestica, collessioni corporali e un'accusa di falsa detenzione per minaccia, violenza, frode e inganno secondo quanto riportato dai documenti del tribunale. Quindi lui poi è stato arrestato, è stato rilasciato su cauzione, una cauzione di 50 mila dollari e il 14 ottobre del 2020 è stato assolto per questi crimini. Ma come sappiamo Hollywood non perdona, infatti lui è stato cacciato dalla produzione di Rick e Morty da Adult Swim, la casa di produzione, ha perso il lavoro perché come sappiamo, abbiamo già visto mille volte, è inutile che aspetti la condanna o l'assoluzione, Hollywood se c'hai qualcosa ti fa fuori. Però non è questo il succo del discorso. Perché? Quando è arrivata la notizia che Roiland in realtà sia stato, anche se dichiarato innocente, è arrivata l'accusa, sono spuntate online alcune chat un po' particolari di lui che utilizzava il successo di Rick e Morty per adescare le minorenni, detto proprio contro la monetizzazione di YouTube. Quindi il mondo di internet si è scagliato contro Roiland appena sono uscite le accuse, quindi appena c'è stata la possibilità di dipingerlo come una persona non perfetta e soprattutto dopo aver perso il lavoro, sono uscite un sacco, ma un sacco, tantissime conversazioni online, alcune delle quali erano però già state pubblicate prima del 2020, alcune erano state pubblicate sui social come Tumblr e Reddit nel 2017, ma essendo Tumblr soprattutto un social che non è che andasse particolarmente, la cosa era passata in secondo piano. Quindi questa cosa ha creato diciamo dei fan agguerriti proprio perché in realtà le accuse risalivano anche a prima di questa vicenda. Non è stato facile trovare le informazioni perché chiaramente sono prevalentemente in inglese e anche la maggior parte dei siti che parlano di questa vicenda erano bloccati, nel mio paese che in questo caso è in Spagna ma sarebbero stati bloccati anche in Italia ed è per questo che dobbiamo ringraziare lo sponsor del video di oggi, cioè NordVPN. Ringraziamo NordVPN che oltre a sostenere il canale mi ha aiutato nella raccolta di informazioni per la realizzazione di questo video. In quanto grazie ad un accesso criptografato mi permette di cambiare la posizione del mio indirizzo IP e accedere a siti web che normalmente risultano bloccati per l'Italia. E visto che siamo sotto il periodo di Natale, buon Natale anche da NordVPN! In descrizione c'è il mio link per avere uno sconto esclusivo più 4 mesi extra sui piani biennali di NordVPN. Vi consiglio il piano plus per ottenere insieme a NordVPN anche il NordPass ad un prezzo speciale. L'online è pericoloso e dobbiamo iniziare a prendere sul serio la cyber security e a dipenderci da malintenzionati che vogliono rubare i nostri dati. Possiamo passare però a un Natale sereno con una funzione antivirus inclusa, la threat protection, che funziona anche quando la VPN è spenta. Inoltre con NordVPN avrete accesso a contenuti streaming di altri paesi oppure ad hotel a prezzi scontati, a boli a prezzi scontati, appartamenti, semplicemente connettendovi da un altro paese. Cosa aspettate? Vi lascio il link sotto in descrizione. Quindi a quanto pare, appunto, come abbiamo già detto, se ad Hollywood ti piacciono le persone, le ragazze o ragazzi, chiunque sia, superiori ai 17 anni, cioè maggiori anni, a quanto pare non t'assumono. Che è successo? Che è iniziato tutto quando un utente su Twitter ha pubblicato una conversazione in cui Roiland parlava con questa ragazza di 16 anni dicendo di dover mostrare di più il suo corpo una volta raggiunta la maggiore età. Cioè Roiland dall'epoca aveva 35 anni, sta ragazza ne aveva 16. E oltre alla pubblicazione di questi screenshot la ragazza in questione ha fatto anche un video del suo telefono che andava direttamente alla conversazione con Roiland a prova che la conversazione non era stata manomessa. Quindi questa conversazione c'è stata veramente. Poi sono spuntati altri screenshot come ad esempio questo messaggio in cui c'è scritto ti tatueresti morti sul seno e cose così sempre tutte a ragazzine minorenni perché lui diciamo che le adescava nel senso di sai che io sono il creatore di ricche morti quindi guarda quanto soffigo io ho creato ricche morti bla 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 e poi dopo cercava di sviare la conversazione su una diciamo su un argomenti inappropriati da fare con una ragazzina e minorenne. Poi c'è un'altra conversazione in cui Roiland cerca di convincere questa ragazza di 17 anni ad andare a una festa di Hollywood con lui e non però accompagnatrice sua ma accompagnatrice di Alex Hirsch che è il creatore di un altro cartone animato chiamato Gravity Falls. Ora prima di incolpare questo Hirsch a un certo punto nella conversazione si vede che Roiland dice alla ragazza però di cancellare queste conversazioni perché Hirsch non ne sa niente quasi come se volesse portarle una 17enne per regalo però chiaramente potrebbe essere una cosa di sua iniziativa e non del fatto che a Hirsch piacessero queste ragazzine infatti lui non è finito nell'ondata di questa shitstorm diciamo. Poi Roiland non è manco tanto furbo perché a un certo punto secondo me quando lavori ad Hollywood ti viene questo delirio di onipotenza in cui ti senti inattaccabile perché questo Roiland non è furbo per niente ha partecipato ad un podcast in cui praticamente ha detto che se una ragazza di 14 anni aveva era già sviluppata e aveva un bel corpo non c'era niente di male a sentirsi attratto da lei e qui vi lascio un pezzettino. Oppure sempre in questo podcast menzionando che centinaia di anni fa le ragazze a 13 anni erano già delle donne già sposate già incinte che quindi è adesso che ci facciamo questi problemi ma meno male che ce li facciamo io ti direi signor Roiland meno male però diciamo che comunque non è furbo perché non è che sì che faceva tanto per nascondere questa sua tendenza mettiamola in questo modo. Poi su NBC News ho trovato un articolo molto dettagliato che parla anche di 11 ragazze che hanno appunto scritto alle testate giornalistiche la maggior parte in maniera anonima perché lavorano nel settore o comunque in settori che potrebbero essere compromessi se si scoprissero diciamo se i loro nomi venissero alla luce ecco e ci sono state altre diciamo altre prove presentate infatti NBC scrive che Roiland mentre faceva festa con le superstar di Los Angeles e viaggiava per il paese per le convention ha scoperto che poteva usare la sua fama per iniziare delle conversazioni e sviluppare relazioni con giovani fan tra cui molte minorenni. Infatti ci sono state queste 11 persone tra donne e persone non binarie che hanno condiviso migliaia di messaggi con Roiland dal 2013 fino al 2022. Da questi messaggi si vede che lui praticamente scriveva copia e incolla cioè lui prendeva ste ragazze la maggior parte minorenni ma comunque non superavano mai 20 anni copiava e incollava tutti i messaggi poi aveva conversazioni aveva centinaia di conversazioni con tantissime ragazze tutte in cui rispondeva allo stesso modo e tutte che poi finivano nella sfera sessuale e poi chiedeva loro di incontrarsi una ragazza ha accettato di incontrarlo su Tinder e quando si sono visti lui l'ha aggredita sessualmente infatti sono usciti insieme eccetera eccetera poi a un certo punto lui ha preteso che lei facesse determinate cose lei ha detto di no però alla fine purtroppo anche per paura diciamo ha fatto quello che ha fatto proprio perché era terrorizzata e questa cosa poi è stata provata dal fatto che sono uscite delle conversazioni perché poi questa ragazza ha scritto a Roiland dicendo guarda che io non non ero assolutamente d'accordo l'hai sentito cioè per me è stata una violenza è stata una cosa orribile e lui risponde oddio scusa non l'avevo capito e lei ha fatto ma se io ti ho anche detto che non lo volevo fare che ero terrorizzata e lui ha detto oh ma non queste cose non si fanno scusami cioè quindi insomma più a conferma di questo eccola stessa cosa raccontato non sul computer che cancelli le cose stessa cosa raccontato un'altra ragazza di 20 anni stessa identica cosa sempre che sempre aggressione sessuale del fatto che lei non fosse d'accordo e lui l'ha messa in una posizione scomoda perché appunto erano da soli e lei ha avuto paura infatti il suo metodo di approccio soprattutto con le minorenni era questo cioè lui ti diceva sono il creatore di ricche morti guarda ti piace ricche morti guarda che bello ricche morti e poi dopo da ricche morti passava a delle cose inappropriate tipo ti tatueresti mai ricche morti su un seno e varie cose così ti tatueresti mai dove fammi sapere dove ti tatueresti ricche morti mandami una foto della parte in cui ti tatueresti ricche morti tutte queste cose le diceva appunto ragazze anche di 13 anni di 14 insomma cioè sotto ai 16 e poi alla fine dopo questa cosa chiedeva loro di incontrarsi altri due ragazze hanno mostrato altre conversazioni sempre di roiland che faceva delle proposte un po così e le chiamava jailbait che è un termine dispregiativo usato per descrivere ragazze minorenne che gli uomini trovano attraenti quindi lui lo faceva di proposito cioè non è che parlava vabbè chiaro che se parli con una 15 15 anni 16 anni hai una conversazione inappropriata è chiaro che vuoi arrivare in un certo punto però lui non si forzava neanche di nascondere la situazione e dopo queste accuse uscite sul web hanno parlato anche diverse lavoratrici che hanno lavorato sia i ricche morti sia in un secondo show di roiland chiamato koala man in cui praticamente erano sia sceneggiatrici sia collaboratrici tutte coloro insomma che lavoravano con lui e hanno tutte confermato ci sono diverse testimonianze che hanno confermato che lui avesse degli atteggiamenti inappropriate al lavoro la maggior parte delle volte se il sistema proprio inappropriati avance e varie toccatine cose del genere quindi lui era un tipo che non si nascondeva assolutamente perché come abbiamo già detto in altri video queste persone sono convinte di non poter essere prese in questo caso non c'è ancora una diciamo una istruttoria un caso aperto nei confronti di roiland nonostante queste conversazioni non so se perché non ci sono abbastanza prove perché magari nessuno ha presentato una denuncia ufficiale però la polizia non ha aperto nessuna indagine quindi lui in questo momento non sta lavorando più ricche morti però comunque libero perché lui per la legge innocente aveva fatto appunto il processo per violenza domestica ma è stato ritenuto innocente per mancanza di prove anche se si era visto che comunque qualche giorno dopo questa presunta violenza era stato emesso un ordine restrittivo dal giudice nei confronti della sua fidanzata e lui non poteva avvicinarsi a lei per cento metri non si è ben capita questa vicenda sinceramente è rimasta un po nell'ombra vedremo un pochino come andrà se ci saranno altre novità eccetera eccetera comunque ogni giorno escono screenshot su screenshot sul web ne trovate tantissimi bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto io e sia vi salutiamo vero vi auguriamo un buon weekend noi ci vediamo martedì prossimo ciao